come si conclude questo tuo 2013 cosa ti aspetti per il prossimo anno dunque questo 2013 è finito sono sono arrivato terzo nel campionato auto gp world series ero partito molto bene con ambizioni dove puntavamo alla vittoria infatti le prime due gare le avevo vinte e con dei buoni piazzamenti ero primo in campionato fino a quasi alla fine del campionato poi purtroppo nelle ultime gare c'è mancato qualche cosina per poter fare quello sprint finale per tenere dietro gli avversari che all'inizio del campionato erano dietro di noi molto vicini e nella parte finale ci hanno superati ora sto preparando la stagione prossima oggi pomeriggio dovevo già andare in pista a Vallelunga finito questo evento dove andrò a provare l'auto gp per un team nuovo e per il prossimo anno ho qualche opzione diciamo che durante quest'inverno dovrò un po valutare quello che che potrò fare quello che sarà meglio meglio per me fare il prossimo anno cercando di rimanere comunque su un campionato di alto livello una serie internazionale che permetta di puntare sempre a vincere hai già qualche indizio su dove si ti troverai il prossimo anno ma adesso principalmente sto andando a provare in pista sempre per con delle monoposto che partecipano all'auto gp domani debutterò con un team nuovo che si affaccia su questo campionato e mi ha contattato per poter diciamo svezzare le sue vetture e il prossimo anno diciamo l'auto gp resta una delle maggiori possibilità per me per poter continuare a correre e tenendo anche un occhio aperto per vedere se possono nascere altre occasioni che possono far bene al mio futuro grazie